Informare e sensibilizzare l'intera comunità e in particolare le giovani generazioni sulle tematiche della sicurezza e della legalità e con questo obiettivo che l'Assemblea Legislativa delle Marche aveva approvato con voto unanime la proposta di legge per istituire una giornata dedicata al ricordo e alla responsabilità da celebrare ogni anno l'8 dicembre. Data scelta con lo sguardo rivolto a quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo dove morirono 5 adolescenti e una giovane mamma travolti dalla calca durante un fuggi-fuggi in discoteca in cui era previsto un concerto del rapper Sfera e basta. Con la legge 20 del 2021 ha istituito la giornata regionale per il divertimento in sicurezza quindi abbiamo finanziato la legge e finanziato buona parte dell'evento per la quale dobbiamo ringraziare Cogeu che è l'associazione nata dopo la tragedia e veramente ha fatto un lavoro egregio sia con l'iniziativa di Fano dove ci sarà una tavola rotonda tra i quali anche il presidente dell'Assemblea Legislativa Dino Latini e successivamente anche con l'evento Senigallia dove i protagonisti sono i giovani in sicurezza. Il programma dell'evento Lotto per il futuro da un concerto si esce senza voce ma non senza vita è stato illustrato questa mattina nella sala della Concordia del Comune di Fano ma vede coinvolti anche Mondolfo, Frontone e Senigallia, le comunità colpite dalla tragedia. È un segnale molto importante per tutte le comunità perché mette non solo in rete tutte le istituzioni, le associazioni ma le parti interessate per far sì che si creino le condizioni proprio per la messa in sicurezza dei locali e dei luoghi. È importante anche perché ha creato un processo per il quale si sono messi in rete genitori e ragazzi e sono stati proprio loro a creare tutto questo, a creare un meccanismo nuovo per far sì che ognuno difenda il proprio diritto un diritto che è sancito dalla Costituzione ONU del 1989 ed anche in alcune leggi della nostra Costituzione per cui i nostri ragazzi hanno bisogno di futuro e per farlo devono stare veramente i luoghi sicuri. Le iniziative partiranno alle ore 9 con una santa messa al Duomo di Fano l'ufficiata dai Vescovi Trasarti e Manenti seguirà un saluto ricordo fuori dalla cattedrale per poi spostarsi alle 10.30 alla chiesa di Santa Maria del Confalone dove diversi relatori parleranno del divertimento in sicurezza. Tra loro anche il maestro Giulio Mogol, presidente SIAE e Raffaele Distaso, responsabile della comunicazione di Scuola Zoo Modera Gianluca Aless, giornalista Sky. Ci sarà un altro momento importante alle 12.15, di cosa si tratta? Sì, è la consegna di sei premi di laurea che verranno intitolati ad Asia, Demma, Benedetta, Eleonora, Mattia e Daniele scelti dalla Politecnica delle Marche di Ancona e verranno consegnati a sei ragazzi sono ogni premio di 1000 euro per tesi che hanno sviluppato temi legati alla sicurezza. Le facoltà coinvolte sono quelle di Ingegneria, Medicina e Scienze Economiche Giuridiche oltre a questi riconoscimenti è previsto un premio che verrà segnato per una tesi di laurea nell'ambito di Scienze della Comunicazione dell'Università di Urbino Carlo Bo e riguardante l'evento Lotto per il Futuro. Nel pomeriggio invece le iniziative si sposteranno al Teatro La Fenice di Senigallia qui dopo i saluti istituzionali si passerà al docufilm di Lorenzo Cicconi Massi dal titolo Mi batte forte il tuo cuore, il ricordo delle vittime della strage. La giornata si concluderà con due concerti, il biglietto avrà un costo di 5 euro e potrà essere acquistato al botteghino del teatro o su vivaticket.com Che cosa significano per voi queste iniziative? Siamo sicuramente molto soddisfatti, l'abbiamo volute fortemente speriamo di farla diventare una giornata nazionale e ci impegneremo assolutamente anche per questo e sono molto significative perché appunto è giusto ricordare e ricordare anche con uno sguardo rivolto al futuro. Grazie. Grazie.